Buongiorno a tutti cari amici dal vostro Nicola De Lucè in questo nuovo giorno, in questo primo video di oggi parliamo del campionato cadetto di calcio maschile serie B, recupero della giornata numero 17, Spezia Cremonese, gli ospiti avanti al 27esimo del primo tempo con Clayton, poi Ribaldone nel secondo tempo dello Spezia con Maggiore, Di Gaudio e Nizola, cerca di rientrare la Cremonese con Parigini ma non ce la fanno gli ospiti, Vittoria dello Spezia quotata bene 2-2-0-5-1-97, in classifica gli Spezzini sono al terzo posto, praticamente a pari punti dal Crotone e Frosinone a 37, lo Spezia reduce, questa è stata la quarta vittoria di fila, momento molto positivo per gli Spezzini, la Cremonese viaggia ancora nelle zone caldissime, torride della serie B in classifica a 17esima posizione, a più 3 dalla retrocessione diretta, posto numero 17 vuol dire play out, a 23 punti, terza sconvita di fila nelle ultime 5 gare e due pareggi di fila nelle ultime 5, lo Spezia giocherà tra 3 giorni di nuovo in casa contro Lascoli, Piazzata al dodicesimo posto a 31 punti, anche lei in corsa per un posto al sole nel play out, mentre la Cremonese giocherà tra 4 giorni il 16 febbraio in casa contro il Trapani, che praticamente penultima in classifica quota 19 punti a 3 sconfitte nelle ultime 5 gare. Bene, chiudiamo il video appunto ricordando di nuovo Spezia batte Cremonese 3 a 2 tra le mura amiche nel recupero della giornata numero 17, al prossimo video!